E' scattato oggi lo stato di agitazione per i lavoratori del consorzio di Bacino Salerno 2 operanti sul territorio di Albanella. La decisione è scaturita dal mancato pagamento degli stipendi e della quattordicesima mensilità, ma anche dalle problematiche legate alla continuità occupazionale. Da circa un anno, e quanto si legge nel documento dell'organizzazione sindacale Fila Scampania, le maestranze subiscono gli effetti del rimpallo di responsabilità tra comune e consorzio e non si è riusciti a porre in essere un incontro partecipato e finalizzato alla risoluzione delle problematiche. I lavoratori, conclude la FILAS, vivono un forte disagio che potrebbe sfociare in azioni incontrollabili.